buongiorno in questa lezione parleremo della pittura di caravaggio e del grande rinnovamento artistico che il pittore portò non solo in italia ma in tutta europa nella lezione precedente abbiamo individuato due linguaggi che si sviluppano nell'ambito della pittura barocca uno classicista e uno caravaggista il primo faceva capo alla scuola di carracci il secondo appunto a caravaggio questa seconda strada è talmente innovativa che un grande storico dell'arte italiano carlo giulio argan ha scritto non dobbiamo chiederci se la pittura di caravaggio è barocca dobbiamo chiederci se il barocco è caravaggesco o no michelangelo merisi in acqua a milano anche se la tradizione ci ha tramandato la nascita nel paese bergamasco di caravaggio da cui poi il soprannome e morì a porto ercole in provincia di grosseto la sua formazione avvenne tra milano e roma ma l'artista dovette viaggiare molto anche per il suo carattere irruento che spesso gli procurò anche dei guai con la legge analizziamo ora alcuni quadri dell'artista che ci permettono di individuare i caratteri del caravaggismo che si diffuse ben presto in tutta europa in questo primo quadro caravaggio rappresenta la testa di medusa la prima cosa che notiamo è che la superficie del quadro non è totalmente piana è commessa questo perché perché evidentemente c'è un legame con la storia raccontata ci sono diverse storie riguardanti medusa tra le tante notiamo quella secondo cui medusa era una ragazza bellissima e per gelosia fu trasformata in un mostro una donna con i capelli di serpente dalla dea atena questo mostro aveva la capacità di pietrificare tutti coloro che l'avessero guardata nella sua storia entra a un certo punto per seo l'eroe che proprio tramite l'aiuto della stessa atena riesce a sconfiggere il mostro semplicemente schermandosi con uno scudo e individuandolo tramite il riflesso taglia la testa a medusa e utilizza poi questa testa che comunque non perde il suo valore magico per sconfiggere altri nemici quindi il quadro che noi vediamo in realtà dovrebbe rappresentare appunto la testa di medusa così come ci viene restituita riflessa dallo scudo di per seo ecco quindi spiegata la commessità del supporto ma adesso vediamo gli aspetti tecnici che sono importanti per definire l'arte di caravaggio come vediamo caravaggio rinuncia a qualsiasi elemento naturalistico cioè evita tutto ciò che può idealizzare la figura quindi la sua arte è un'arte realista il realismo di caravaggio si preoccupa di riprodurre la realtà così com'è senza nessun filtro anzi se può l'artista induggia sugli elementi tragici elementi che generano orrore nello spettatore e questo sarà una costante in tutta la sua produzione spiccano soprattutto i caratteri legati ai serpenti ma anche il sangue che esce fuori dalla testa mozzata in maniera cruda e reale appunto e un'altra cosa che colpisce è lo sguardo attonito e la smorfia di dolore del personaggio tutti questi elementi dicevo saranno un filo rosso che si scontrerà in moltissime opere dell'artista anche il tema della testa mozzata vedremo sarà riproposto più volte l'opera successiva è una canestra di frutta che rientra quindi nel genere della natura morta o natura silente come veniva chiamata nel resto d'europa abbiamo già detto che nel seicento si verifica la differenziazione dei generi della pittura per cui abbiamo i paesaggi le scene di genere le scene mitologiche o classiche e anche la natura morta questo quadro rappresenta un po il manifesto della pittura di caravaggio perché ci rappresenta una natura nel suo disfacimento abbiamo quindi la rappresentazione delle foglie secche che si accartocciano col passare del tempo la rappresentazione della mela bacata oppure delle foglie che cominciano ad ingiallire notiamo subito un estremo realismo tant'è vero che abbiamo l'impressione quasi di stare di fronte ad un'immagine fotografica in realtà oggi sappiamo che l'artista si serviva di strumenti ottici per realizzare queste immagini estremamente dettagliate lo sappiamo grazie ad un'indagine molto accurata dell'artista inglese david ockney questo artista ha dimostrato che caravaggio si serviva di uno specchio per proiettare sulla tela tramite un gioco di luci e ombre un'immagine reale quindi una sorta di fotografia antelittera ma potremmo definirla in modo tale da poter catturare i minimi dettagli dell'immagine sappiamo che l'artista aveva praticato nel suo studio un foro in alto e da questo foro entrava un raggio di luce e mentre il resto della stanza era buia quindi caravaggio disponeva il suo modello reale in una parte della stanza e sfruttando appunto il raggio di luce e uno specchio proiettava sulla tela il soggetto che poi veniva ricalcato perché l'artista si serviva di questi strumenti ottici prima di tutto dobbiamo dire che non fu l'unico questi studi sulla possibilità di rappresentare un'immagine in maniera dettagliata erano già presenti addirittura fin dal medioevo ma poi fu nel rinascimento che vennero utilizzati ma perché caravaggio se ne servì perché la sua ricerca ovviamente abbiamo visto lo aveva portato nella rappresentazione estrema della realtà per cui alcune espressioni soprattutto dei volti doloranti come abbiamo visto per esempio quello di medusa potevano essere resi e riportati sulla tela solo tramite questi strumenti che erano in grado di catturare l'immagine nelle sue più piccole sfumature quindi questi strumenti ovviamente non vanno a togliere nulla alla genialità di caravaggio anzi l'artista si dimostra attento e curioso per tutte le innovazioni di carattere tecnico e poi se ne serve per le sue opere originali nell'opera successiva vediamo un bacco che secondo molti è un autoritratto giovanile dell'artista notiamo qui ormai l'usuale realismo della scena ma soprattutto il tema del vino che abbiamo già riscontrato in altre opere di altri artisti in questo tema del vino però si inserisce quello dell'ebbrezza per cui qui troviamo una propensione verso l'aspetto più degenere della realtà anche in questo caso troviamo una natura morta estremamente dettagliata secondo i criteri spiegati precedentemente andiamo avanti con la famosa vocazione di matteo quest'opera si trova nella cappella contarelli della chiesa di san luigi dei francesi a roma e è inserita in un trittico quindi tre opere che raccontano alcuni episodi della vita di san matteo quello che vediamo qui è la vocazione cioè il momento in cui gesù entra in una locanda che è tipicamente secentesca e con un gesto imperioso chiama matteo che si stupisce e indica se stesso come per dire sono proprio io colui che stai chiamando questa vocazione determina un totale cambiamento di vita in matteo che da pubblicano esattore delle tasse diventa l'evangelista e il discepolo a livello formale notiamo come la figura di cristo sia accompagnata da una luce laterale estremamente forte che ovviamente non è più una luce naturale ma è emblema della luce divina e che ci ricorda appunto quel raggio di luce a cui abbiamo accennato a livello tecnico per quanto riguarda caravaggio ma abbiamo anche il gesto di gesù che è un gesto che ricorda sicuramente quello di dio creatore nella cappella sistina nella parte sinistra invece abbiamo i personaggi che sono poi il soggetto del racconto che come vedete sono vestiti non alla maniera della palestina dei tempi di gesù ma sono vestiti come personaggi reali del seicento questo a simboleggiare che la grazia divina entra nella storia di ogni uomo di ogni tempo dobbiamo qui ricordare anche il fatto che la chiesa si serviva di questi artisti nel seicento per promuovere una nuova religiosità soprattutto per muovere l'animo dei fedeli alla ricerca della dottrina ortodossa quindi è una ferma risposta alle dottrine che venivano dall'oltralpe ed erano essenzialmente eterodosse quindi si parla della risposta al protestantesimo di lutero nell'opera successiva troviamo la crucifissione di san pietro anche quest'opera si trova in una cappella nella chiesa questa volta di santa maria del popolo e la cappella la cappella cerasi ed è di fronte alla famosa conversione di san paolo proprio perché questi due personaggi pietro e paolo sono i due pilastri su cui si fonda l'evangelizzazione in quest'opera abbiamo la crucifissione di san pietro che come sappiamo non molle essere crucifisso come il suo maestro per cui venne crucifisso a testa in giù ma la genialità di caravaggio sta tutta nella nuova scelta del punto di vista perché questo tema era già stato affrontato ad esempio dallo stesso michelangelo nella cappella paolina però caravaggio sceglie di rappresentare il soggetto non frontalmente ma dal basso quindi potremmo dire dal punto di vista del povero e in primo piano troviamo i piedi che sono piedi sporchi piedi che hanno camminato per l'evangelizzazione quindi troviamo sia i piedi di colui che lo crucifigge la scena quindi rinuncia ad ogni effetto di carattere idealistico e si basa ancora una volta sul forte impatto emotivo che questa scena reale e cruda genera nell'osservatore nella scena in emmaus invece abbiamo la rappresentazione della famosa scena evangelica dei discepoli di emmaus nel vangelo si racconta che dopo la resurrezione due discepoli sconsolati camminano per strada e parlano di quello che è avvenuto cioè della morte e della risurrezione di gesù e sono tristi perché pensavano che gesù fosse il salvatore a un certo punto vengono raggiunti da un pellegrino che li accompagna per un tratto e che poi loro stessi invitano a cena nel momento della cena nel momento dello spezzare il pane gesù si rivela come gesù risorto e scompare davanti agli occhi di tutti quindi qui caravaggio fotografa potremmo dire il momento in cui gesù si sta rivelando e quasi sta scomparendo perché notiamo già negli occhi dei discepoli lo stupore che segue appunto la sparizione davanti ai loro occhi il discepolo di destra spalanca le braccia mentre quello di sinistra seduto sta per alzarsi a livello formale notiamo anche qui il gioco sapiente di luce e ombra ma soprattutto a livello compositivo una estrema cura da parte dell'artista le linee di fuga soprattutto quella del tavolo converge ovviamente nel volto di cristo mentre lateralmente il personaggio che spalanca le braccia ci dà l'idea della profondità della scena poi in primo piano l'usuale natura morta che in questo caso è messa proprio all'estremità del tavolo tant'è vero che una parte sporge fuori e questo è un elemento tipico della pittura del seicento perché mirava con questo effetto di qualcosa che sta per cadere a raggiungere un maggiore realismo e ad enfatizzare proprio la profondità di campo è chiaro che tra i modelli che caravaggio utilizzò per quest'opera c'è il famoso scenacolo di leonardo che si trova appunto a milano nell'opera successiva abbiamo la madonna dei pellegrini quest'opera è molto interessante perché ci presenta una madonna con un gesù bambino fortemente reali ed è una rappresentazione questa della vergine che si distacca da quelle manieriste se noi pensiamo per esempio ad elegantissima madonna dal collo lungo di parmigianino notiamo una distanza abissale tra le due rappresentazioni nella parte destra del quadro in basso abbiamo due pellegrini che sono sicuramente poveri per il loro modo di atteggiarsi e per i loro vestiti e in primissimo piano ancora una volta i piedi sporchi notiamo che proprio dal particolare dei piedi sporchi nasce una diagonale che segue la diagonale del rettangolo quindi del formato del quadro che ci porta direttamente a cristo e alla madonna e un particolare bellissimo che si trova proprio al centro dell'opera cioè l'incrocio delle due diagonali del rettangolo è il particolare delle mani del pellegrino che non toccano il piede di gesù ma si avvicinano a toccarlo anche questo è un richiamo al già citato a fresco di michelangelo la creazione di adamo dove la mano di dio sta per toccare ma non tocca quella di adamo nell'opera che vediamo adesso abbiamo la rappresentazione della morte della vergine questo è un quadro che fece un grande scalpore perché caravaggio scelse come modella per la vergine una prostituta che trovò annegata nel tevere infatti vediamo che la madonna presenta un ventre gonfio che è tipico degli annegati riguardo al tema della morte della vergine non abbiamo notizie dai quattro vangeli ma dalla tradizione che ci parla di dormizio virginis cioè di dormizione della vergine la chiesa ci dice che non poteva essere toccata dalla morte colei che era la madre dell'autore della vita per cui subito dopo la morte la vergine ha seguito la sorte del figlio ed è stata assunta in cielo in anima e corpo a livello formale la scena è inquadrata in un ambiente estremamente buio con alcuni sprazzi di luce che definiscono i corpi al centro c'è quindi la vergine vestita di rosso che è il tradizionale colore del martirio e nella parte più bassa abbiamo la figura di maria maddalena che ricorda sia nella posizione ma anche nel vestito un altro quadro su questo tema di caravaggio mentre nella parte superiore abbiamo gli apostoli che piangono e il tutto è incorniciato da un grande trappo rosso che pende dall'alto questo trappo in particolar modo ci ricorda che tutta la pittura barocca è una pittura estremamente teatrale per cui la scena che noi vediamo sembra quasi esplicitare questo aspetto di finzione che è essa stessa un aspetto della realtà se vogliamo trovare un riferimento per una scena del genere possiamo individuare sicuramente tintoretto che è uno tra i pittori più importanti della scuola veneta e veniamo a una delle ultime opere di caravaggio è il david con la testa di golia david sappiamo era un personaggio biblico che sconfisse il gigante golia non per la sua forza ma perché si votò all'aiuto di dio e questo è un tema tradizionale nell'arte italiana basti pensare al david di donatello di michelangelo di bernini però anche in questo caso caravaggio traduce il tema in una maniera estremamente personale soprattutto presentandoci in primo piano la testa mozzata di golia che è evidentemente un ulteriore richiamo alla testa mozzata di medusa che abbiamo visto all'inizio della lezione ma soprattutto in questo quadro stupisce il ritratto che caravaggio fa di golia che in realtà un autoritratto e sicuramente anche per questa scena il riferimento è michelangelo è il michelangelo del giudizio universale che se ricordate si rappresenta in un autoritratto estremamente violento che è quello che si trova nella pelle scoiata di san bartolomeo come vedete anche nel caso di caravaggio il richiamo a michelangelo è continuo ma in questo caso anche perché i due personaggi sicuramente condividevano un atteggiamento pessimistico nei confronti della vita o certamente tormentato e in queste ultime due opere invece vediamo un effetto della pittura di caravaggio sia in italia ma anche all'estero nel primo quadro vediamo una caravaggista tra l'altro una donna una delle poche donne di cui ricordiamo i nomi nell'arte mondiale artemisia gentileschi che ci presenta qui giuditta e oloferne senza entrare poi nel merito del quadro notiamo solo come l'artista riprenda da caravaggio sia la disposizione delle figure la luce ma soprattutto la violenza mentre nel secondo caso abbiamo un'opera di rembrandt il grande artista olandese che come vedete si dimostra fortemente influenzato dall'aspetto luministico della pittura di caravaggio grazie a tutti